Il Palermo prosegue quest'oggi il proprio programma di allenamenti nel ritiro estivo Il terreno di gioco della Sport Arena per il Rosanero è previsto una doppia seduta Al termine dell'allenamento mattutino il centrocampista Gaston Brookman verrà presentato ufficialmente alla stampa Let's Pescara indosserà la maglia numero 16 Simone Colombi sarà il nuovo dodicesimo del Palermo Perso Samiru Icani il cui contratto non è stato rinnovato Il club di Viale del Fantasy è mosso per trovare un'alternativa giovane nel ruolo di secondo portiere Colombi arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto Ed è atteso quest'oggi in ritiro per iniziare gli allenamenti con i nuovi compagni Andrea Belotti è il primo rientrante dalle vacanze in Casa Rosanero L'attaccante bergamasco dopo la delusione dell'europeo Under 21 Terminato nella fase a Gironi per l'Italia È tornato subito in campo col Palermo Sostenendo nel pomeriggio di ieri il suo primo allenamento nel ritiro precampionato Il centravanti ha raggiunto i compagni in hotel verso l'ora di pranzo Mettendosi subito a disposizione di Iacchini Prime parole dal giocatore del Palermo per Ahmad Ben Ali Presentato nella giornata di ieri in sala stampa a Backline Kirkaim Penso che il mio ruolo è la mezzala Però sono a mezzala che ho segnato tanti gol Quindi in miss per le ultime 4-5 partite mi ha messo come trequartista L'ho segnato anche lì che il limite dopo bene sono più vicino alla porta Quindi è più facile fare i gol Però sono centrocampista che a me piace fare tutte e due Fase offensiva, fase difensiva E poi l'ho fatto anche davanti alla difesa Per tutte le altre notizie è stadionews.it